buongiorno buongiorno amici sportivi e benvenuti alla quinta puntata in diretta firmata fondo italia oggi lunedì e come al solito sci alpinismo abbiamo due grandi ospiti presenti questa sera verranno intervistati da katia colturi loro sono michele boscacci e alba de silvestro benvenuti ragazzi buonasera ciao a tutti ciao buonasera a tutti insieme a loro abbiamo anche il tecnico stefano bendetti e ovviamente quindi lascio la linea katia colturi per l'intervista buon divertimento grazie nicolò grazie per il prezioso lavoro ciao alba sono michele sono stefano buonasera ciao ciao ragazzi state bene ragazzi ciao alba e micchi state bene tutto ok si tutto bene dai tutto a posto qua in questo periodo un po complicato però almeno le nostre famiglie sono tranquille stiamo tutti bene come stanno i tuoi alba nel comedico tutto ok sono lontani da me in questo momento però sono in una zona abbastanza tranquilla stanno tutti bene e quindi non ci possiamo lamentare ma quanto non li vedi mese che non torno a casa perché abbiamo parliamo ma gara e siamo rientrati qui anch'io avevamo intenzione di tornare dopo tutti e due in veneto diciamo però non c'è più stata l'occasione speriamo che si ripresenti presto via libera beh sì dai l'occasione speriamo sì si ripresenti presto anche per una data super attesa ma ne parliamo dopo stefano tutto bene anche dalle due parti tutto ok si tutto bene anche nel paesino dove abito io ci sono pochi casi fortunatamente dai tutto a posto per ora ottimo speriamo di te accrociate che fate ragazzi di bene in questo periodo michele alba riuscite ad allenarvi fate qualcosa anche se dai social vedo alba ti sei data all'allevamento alla grande oltre che alla cucina penso che come tutti diciamo l'abbiamo presa come un periodo un po con calma come tutti quanti penso il resto degli italiani abbiamo fatto la pizza al pane la focaccia abbiamo scaldato per bene i forni diciamo ci siamo dati alle piccole attività quelle che non avevamo mai il tempo di fare però poi purtroppo adesso questa cosa si sta tirando per le lunghe e quindi niente ci siamo adattati e cerchiamo di ritornare presto alla normalità però di trovare un po' di normalità in tutto quello che che è questo pian piano alla fine ci ci si abitua a convivere con queste regole che ci sono adesso e niente beh ho visto sui social che sei reale presa anche con un vitellino quindi ti tocco ovviamente e sarà anche una passione beh quella è una passione di michele più che sia e pian piano mi sta trascinando dentro diciamo che in questo momento qua il fatto della stalla è una cosa super positiva perché alla fine in qualsiasi caso le mucche diciamo hanno sempre bisogno di essere curate in qualsiasi momento indipendentemente dal virus o no poi soprattutto gli animali non non sono contagiosi quindi diciamo che c'è tempo da dedicare alla stalla che così michele è super contento e io non posso che dargli una mano beh dai michele prima di passare alle domande tecniche però qualche curiosità sulla vostra vita attuale ci fa sempre piacere conoscerla appunto alba com'è come contadina come allevatrice e come stanno le sue mucche? beh diciamo che anche come allevatrice non se la cava male mi aiuta tutti i giorni andiamo in stalla e con quel con quel po' di di che è una valvola di sfogo per poter uscire di casa soprattutto in questo in questo periodo e niente poi almeno stiamo un po' assieme e facciamo qualcosa di diverso che rimanere in casa a fare allenamento qua all'interno all'interno delle quattro mura domestiche quindi si è adattata bene anche a questa situazione vi allenate un pochettino? ma sì facciamo allenamento indoor qui un po' di esercizi un po' di cose che normalmente io odio ma mi sono dovuto far piacere perché è l'unica cosa che si può fare non avevamo i rulli ce li siamo fatti spedire da casa di alba che ne aveva un paio dimenticati là e ci diamo un po' il cambio su questi rulli speriamo di non consumarli troppo in questo periodo e ci teniamo in forma un po' così sicuramente l'abbiamo presa un po' alla leggera con calma senza agitarci perché comunque anche agitandosi le cose non cambiano ed è giusto un attimo prendersela con comodo ecco beh direi di sì che stagione è stata? partiamo da Michele hai vinto più o meno tutto in carriera hai vinto le coppie del mondo mondiali, gran course e quant'altro, campionati europei quest'anno forse è una stagione non ad altezza delle tue aspettative o forse mi sbaglio? ma sicuramente per me questa è una stagione un po' da dimenticare da tanti punti di vista sia da quello che è finita due mesi prima e poi siamo tutti in questa situazione bruttissima ma anche un po' normalmente io ho la caratteristica di partire subito forte ad inizio stagione e poi magari avere un piccolo calo sulla metà per poi riprendermi sul finale quest'anno non volutamente sono arrivato ad inizio stagione un po' sotto tono mi stavo un attimo riprendendo e recuperando un po' quelle che erano le mie sensazioni buone quando poi è arrivata la notizia che tutto si fermava e tutto si annullava volevo cercare di salvare la mia stagione facendo la seconda parte, le grandi classiche, le finali di Madonna di Campiglio la pierramenta al fianco di Matteo Idallin e cercare un po' di risollevare in quella maniera i miei risultati ma non è andata così, non mi dispero per questo, probabilmente gli allenamenti mi sono serviti e mi sono serviti anche un po' come lezione in vista delle prossime stagioni e quindi abbiamo sempre qualcosa da imparare assolutamente invece l'altro è stata una stagione top, a seconda nella overall e in più anche la vittoria nella individual e seconda nella reality, se non ricordo male stagione promossa a pieni voti? promossa a pieni voti, una stagione così ti dico è difficile da festeggiare, esultare perché comunque è una stagione incompleta, mancavano ancora tante gare alla fine nella Coppa del Mondo abbiamo disputato sette gare su undici quindi sicuramente mancava ancora tanto anche per dire riuscire comunque a vincere magari l'overall quest'anno sicuramente non ti dà la soddisfazione di averlo fatto negli altri anni io ho fatto un inizio di stagione abbastanza sottotono ho faticato tanto il mese di dicembre e ho fatto veramente fatica poi per fortuna sono riuscita a dargli il giro già a gennaio sono andata in forma, stavo bene alla fine ho fatto sia le gare della Coppa del Mondo sia in Germania che in Andorra ho vinto le due individuali e sono stata super contenta anche perché appunto quello mi ha permesso di vincere la Coppa individuale di specialità e quello sì, sono super soddisfatta di quelle gare però c'è da dire che mi sarebbe piaciuto andare alle finali a Campiglio che erano valevoli anche come europeo e soprattutto c'erano tutte le grandi classiche io non sono ancora mai andata a fare il Pierramenta diciamo quello dei grandi l'ho fatto solo da junior quest'anno avevo deciso di andare lì e non ne ho avuto la possibilità quindi dovremmo rimandare ancora di un anno questa sfida e in più tutte quelle gare che non abbiamo potuto correre alla fine non sapremo mai come sarebbero andate è quello che mi dispiace un po' di più Alba, pensi che se la Coppa del Mondo fosse stata portata a termine quello svizzera Marien-Paston si sarebbe potuta battere? Beh, sicuramente ci avrei provato ci avrei provato non vuol dire che l'avrei presa perché comunque aveva già un distacco importante aveva già quasi 100 punti di margine quindi dovevo andare veramente bene io e un pochino male lei che anche io comunque dovevo andare veramente bene sicuramente ci avrei provato erano abbastanza distanti le gare l'ultima tappa rispetto alle altre quindi c'erano anche tante altre gare in mezzo che comunque il Pierramenta a quattro giorni di gare può rimanere tanto nelle gambe a qualcuno quindi era tutto da vedere sicuramente prenderla sarebbe stato difficile perché la prima tappa in Francia ho fatto delle gare male le ho fatte abbastanza pessime diciamo e quindi mi hanno fatto perdere tanti punti quindi recuperarli poi sarebbe stato difficile però sicuramente mi sarebbe piaciuto provarci poi magari non sarebbe cambiato niente però almeno ce la saremmo giocata fino in fondo assolutamente la parola tecnico Stefano che stagione è stata? concordi con i giudizi dei tuoi super atleti? sì è una stagione strana come sappiamo tutti ovviamente con poche gare se sbagli qualcosina è difficile recuperare quindi chi è partito forte già dalla prima gara ha fatto parecchi punti e poi risulta sicuramente difficile con tre eventi con sei, sette gare solo sicuramente è da pensare a una Coppa del mondo con un pochino più di gare così uno ha anche la possibilità di recuperare in caso vada male un evento o si può anche ammalare un evento con così poche gare se uno salta una gara o due compromette tutta la stagione un'Italia che comunque si è ben comportata in ambito di classifica finale sia di socialità che overall ricordiamo il titolo maschile è andato ancora una volta Roberto Antonioli con Davide Magnini Giulia Murada tra Gasquara e poi che dimentico Sananta Bertolino tra gli ingiores un buon bottino generale Stefano Sì il bottino è ottimo i risultati sono buonissimi il settimo anno di fila che portiamo a casa si porta in Italia appunto la Coppa overall maschile pian pianino stanno crescendo anche le ragazze e si vedono ottimi risultati anche nel comparto femminile Michi e Alba siete più portati o vi piacciono di più le gare della Gran Corsa le gare lunghe però ovviamente la Coppa del Mondo è ovviamente importante che cosa che cosa dite da questo proposito insomma sono state cambiando la vostra modalità d'allenamento per far sì che vi possano piacere di più anche le gare secche rispetto a queste lunghe su 3-4 giorni? Ma diciamo che sono due forme di gare completamente diverse si fa sempre il sialpinismo però la Coppa del Mondo per problemi logistici e anche di spettacolarità esecuzione del gesto sono gare molto compatte basta pensare alla sprint oppure la vertical o anche l'individuale stessa che raramente supera l'ora e mezza nelle gare di noi uomini quindi lì è una cosa spettacolare soprattutto da vedere e si apprezza anche il gesto atletico del nostro sport mentre le gare della Gran Corsa sono diciamo le gare le classiche le gare storiche del tutto il palcoscenico mondiale dove si fanno i numeri dove ci sono tutte le persone dai dai semplici appassionati della domenica agli atleti elite che concorrono per qualcuno per vincere qualcuno per portare anche solo a termine il stracciato basta pensare alla pierna menta sono 4 giorni di gara sono 10.000 metri di dislivello positivo per uno che fa l'operaio in fabbrica arrivare anche solo al traguardo penso che sia un'emozione al pari se non di più di noi che siamo lì a competere per la vittoria quindi sono due quasi due stagioni perché si parte subito con queste gare corte molto intense che comunque fanno bene a noi atleti anche per aumentare la forma per entrare in forma e poi sul finale di stagione si modificano un po' anche gli allenamenti e le strategie di allenamento per affrontare queste gare più lunghe e più dure però diciamo che un atleta per distinguersi deve andare bene in entrambe le cose non si può pensare in questo momento di essere solo specialisti della Coppa del Mondo oppure solo specialisti della Gran Corsa bisogna essere competitivi su entrambi i fronti i fronti i fronti Michele qual è il format che meno prediligi delle gare di Coppa del Mondo? il format che mi piace un po' meno è la gara sprint premetto che di gare sprint ne ho già vinte tre mi pare ed individuali solo due quindi è la gara che mi piace meno da un punto di vista di gestione della tensione e di gestione di tutto il momento di gara perché si fanno diverse partenze diversi attimi che si è sulla linea di partenza dove si è più nervosi e quindi non mi piace questo però è anche il format che quando sto bene mi riesce bene quindi la gara che mi piace di più a dire la verità è la gara individual che è un po' il vero scialpinismo in versione ridotta compatta Alba io sono d'accordo con Michele perché le sprint hanno tanti giri tante cose da fare alla fine è una gara cortissima ma che dura tantissimo perché comunque se si parte dalle qualifiche quarti di finale semifinali finali se si arriva fino in fondo alla fine è veramente lunga fai un'intera mattinata o pomeriggio in ansia devi rimanere concentrato per tantissimo tempo e alla fine la gara dura pochissimo hai pochissimo margine di error perché è una gara che dura tre minuti e mezzo quindi non puoi permetterti di sbagliare e devi faticare tanto devi fare tanti cambi quindi la concentrazione non puoi mai perderla a me personalmente le sprint non mi riescono tanto bene non riesco ad essere così veloce come dovrei essere risulto sempre più lenta ho fatto qualche podio sì in Coppa del Mondo nelle sprint però faccio è una disciplina che mi costa veramente fatica però ci provo sempre sicuramente anch'io prediligo la gara individuale anche perché rappresenta di più quello che è lo scialpinismo alla fine io sono più soddisfatta comunque di vincere un individuale piuttosto che una sprint perché rappresenta meglio quello che è lo scialpinismo per questo io preferisco l'individuale rispetto che alle sprint Stefano l'Italia certamente negli anni ha dimostrato grandi dote in tutte le specialità ricordiamo nel 2006 prima vincere la Coppa del Mondo fu un certo Guido Giacomelli e poi da lì tutti gli altri azzurri che poi andremo a ricordare quindi sono atleti forse più completi rispetto più completi rispetto alla concorrenza che forse si specializza più su un format che su un altro ma in questo caso in cui c'è anche una Coppa del Mondo overall in generale come si può migliorare un aspetto per esempio Alba dice non sono una sprinter faccio fatica a fare le dare sprint quanto è difficile allenare una peculiarità che non appartiene fisiologicamente ad un atleta si beh diciamo che è il settimono di fila che un italiano porta a casa la Coppa overall quindi vuol dire che non abbiamo specialisti ma andiamo bene in tutte le specialità perché per portare a casa la Coppa overall devi andare bene nell'individual devi andare bene nella sprint e devi andare bene anche nella vertica dopo sono caratteristiche fisiche di potenza ma che magari uno sprinter deve avere di più per fare il risultato però c'è l'Alba dice che i micchi che non vanno bene però rimano sempre tra i primi quindi punti ne fanno quindi poi lo si vede anche nel punteggio finale della overall logico che il livello si sta alzando sempre di più in tutte le specialità adesso ci sono pian pianino gli specialisti e quindi magari non si vince però si arriva nei primi cinque sono sempre punticini che poi alla fine tornano buoni per la Coppa overall che è appunto la Coppa rappresentativa delle varie specialità Certo l'Italia come ho detto prima è stata veramente la numero uno da sempre praticamente i nomi delle canzioni sono moltissimi ricordiamo Giacomelli poi le due Valtadinesi Francesca Martinelli Roberta Pedransini e poi c'è stato Damiano Lenzi e magari mi ricordo mi ricordo ancora qualcuno però veramente gli italiani nel mondo nel mondo dello sciocchinismo uberale possiamo sicuramente dirlo Sì sì sicuramente specialmente poi nella gara classica nella individual se guardiamo noi italiani cioè è quella che ci viene meglio vai perché c'è 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 molta tradizione a partire proprio dal del category dalle categorie giovanili e comunque diciamo che la gara individual che è la gara di scialpinismo a noi ci viene veramente bene cioè agli italiani gli viene veramente bene la prospettiva olimpica se nel 2026 chi se va dovesse proprio entrare nella novella 5c che è anche lo scialpinismo è meglio specializzare gli atleti in il suo format oppure puntare a tutte le due tre discipline che verranno assegnate è meglio dipenderà un attimino magari qualche atleta potrà provare a fare più di una disciplina però principalmente penso che se diventa olimpico si specializzeranno ancora di più quindi sicuramente si andrà verso la specialità la speranza è che specialmente parlando per la gara individual non diventi troppo una gara da pista è vero che magari bisognerà ridurre un po' le salite non far salite troppo lunghe perché altrimenti diventa magari monotono per lo spettatore però spero e la speranza è che rimanga sempre si chiama scialpinismo perché c'è lo sci e anche l'alpinismo quindi che venga fatto in luoghi e località dove c'è la possibilità di fare il vero scialpinismo non magari di fare dello sci vicino alle piste tra virgolette o su diciamo percorsi abbastanza domesticati Alba Michele il vostro pensiero olimpico qual è? Ma sicuramente penso che tutti quanti ci auguriamo di diventare una disciplina olimpica anche perché penso che lo scialpinismo si meriti questo riconoscimento per essere considerato al pari di tante altre discipline alla fine tanti anni che ci lavora e quindi spero vivamente che potremmo esserci in queste olimpiadi e che ci potremmo essere anche noi e per quanto riguarda le gare la specializzazione dipenderà tantissimo da quali gare entreranno e da lì poi si farà tutto un lavoro di conseguenza alla fine se le discipline saranno una, due, tre possiamo scegliere la disciplina che ci viene meglio allenare specialmente quella andare magari a dimenticare il resto sicuramente sarebbe bello dire beh provo a vincerle tutte però visto che si tratta di olimpiade non è facile per vincere una coppa del mondo devi allenare tutte e tre le cose perché devi essere competitivo alla fine in qualsiasi gara mentre comunque se si parla di medaglia olimpica magari il fatto di specializzarsi diventerà più più necessario quasi un obbligo magari però dipenderà tanto dalle decisioni che verranno prese più avanti Michele ah senz'altro partecipare all'olimpiade sarebbe un sogno ecco nel 2026 io avrò 36 anni si vedrà se arriverò a quell'età ancora competitivo e ancora con la voglia di far gare per il momento l'idea c'è poi anno con anno si vedrà un po' il da farsi e cercheremo di 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 mantenerci in forma ecco poi non bisogna neanche fare previsioni così a lungo termine perché poi si vede bene quest'anno era disegnata una stagione e l'abbiamo interrotta a metà quindi non si sa quel che succederà da qui a a sei anni sicuramente l'idea è quella e sicuramente come dice Alba ci sarà da specializzarsi focalizzarsi sulla disciplina che ci riesce meglio e cercare di giocare tutte le carte possibili in quella gara Michele nel 2026 avrai 36 anni appunto come una certa Rianna Fontana che punterebbe a vincere la mano dagli olimpica e avrai anche la stessa età del tuo amico rivale Roberto Antonioli quindi la sfida è doppia sicuramente non sarà l'età per Marvi ma sicuramente è quello c'è da dire che Rianna Fontana ne ha già vinta qualche luna di medaglia olimpica e ha già fatto grandi cose fino ad oggi noi dobbiamo ancora farle speriamo di poterle fare questa è la nostra speranza no ma certo Antone va beh lo suo tre ricordamolo è decisione olimpica dalla 92 quindi per Forcola c'è stata molta più possibilità per una Rianna di vincere medaglie ti faccio questa domanda da una sua vicina di casa al Bosaggia e Polaggia ci saranno 25 km di differenza di distanza la conosci personalmente vi siete già incontrati? ma Rianna sì abitiamo qua poco poco distanti però in giro non l'ho mai incontrata qua c'è stata l'occasione che ci siamo visti forse ma ancora una decina di anni fa qualche evento in valle abbiamo fatto quattro parole però non è che non ho mai avuto un gran non ho mai avuto un rapporto ecco a livello sportivo come giudici Rianna Fontana? ma sicuramente è una grandissima atleta e basta vedere il suo palmarès per vedere quello che è stata in grado di fare non ci sono parole per descrivere tutte le medaglie olimpiche soprattutto tutto quello che ha vinto ecco non fa tempo io chiedo l'aiuto a Nicolò perché non riesco a leggere le domande eventuali se ci fosse qualcuno da casa che vuole fare domande te le bypass se vuoi intervenire controllo subito le domande intanto ti lascio fare una domanda a loro e poi magari torno da voi ok ok Michele tre volte vincitore della Mezzalama due volte della Tour de Router e poi anche due volte della Patruglia quale di queste vittorie senti più tua o quale quella che ricordi maggiormente con quale ti ha coltito di più ma sicuramente tutte queste gare che hai appena elencato sono gare classiche storiche soprattutto queste gare sono le gare che ha vinto in passato non tutte però gran parte di queste anche mio padre quindi è una cosa che per me vuol dire tanto riuscire a essere riuscito a vincere quello che ha vinto anche lui in passato il primo trofeo Mezzalama che era anche l'edizione che si è svolta al contrario da Gressonei a Cervigna è stato bellissimo una bellissima emozione arrivare per primi e vincere questo trofeo però la vittoria che mi ha emozionato di più è stata quella la piramenta con Robert Antonioli che siamo andati lì ancora ormai 15 anni fa nelle categorie juniores abbiamo vinto abbiamo vinto parecchie volte nelle categorie giovani poi ci siamo presentati nelle categorie assolute e sono sempre state bastonate nei denti non siamo mai riusciti a dire la nostra e quell'anno che era il 2018 finalmente siamo riusciti a portare a casa quel trofeo ed è stata una vittoria molto sospirata e si è fatta molto desiderare per questo secondo me ha un valore ancora maggiore Alba di queste gare quale rimane per te uno sogno o che scrivi di realizzare più presto? Beh per me ci sono state tantissime gare di cui ho bellissimi ricordi penso che non è stata una vittoria perché alla fine è stato un secondo posto però la mia prima volta il trofeo mezza lama e abbiamo condotto tutta la gara in testa e alla fine siamo arrivate seconde perdendo tutto sull'ultima discesa e abbiamo preso alla fine solo un minuto e mezzo di distacco su una gara di sei ore e passa e non è stata una vittoria però alla fine è stato un secondo posto che mi ha motivato tanto e mi ha dato la motivazione proprio la voglia di un obiettivo di dirgli tra due anni devo tornare qua per provare a vincere per provare a fare quello che non sono riuscita a fare quest'anno e alla fine così è stato due anni dopo siamo tornate a fare il trofeo mezza lama e l'abbiamo vinto quello penso sia stata una delle soddisfazioni più grande però sia al secondo posto che la vittoria poi alla fine è stato diciamo più combattuto è stata una cosa che mi ha dato tanti obiettivi e tante motivazioni bravissima prendo io la linea per chiedervi in realtà è Giorgio Capodaglio quindi un collega di Katia che è curioso di sapere se quando voi gareggiate a tutti gli effetti uno sa come sta andando comunque cerca di informarsi di come sta andando l'altro insomma qual è il rapporto tra voi mentre svolgete la gara ecco beh il rapporto tra noi mentre svolgiamo la gara tante volte corriamo anche quasi nello stesso momento magari capita che io sono in gara quando lui non ha ancora finito la sua gara magari la finirà prima magari noi siamo partite prima parte prima lui quindi diciamo che tante volte stiamo a pensare a cosa facciamo noi c'è da dire che di solito i tecnici o chi ci guarda se la gara è già finita comunque a me almeno me lo dicono come se è messo bene o se è messo male o se ha già vinto o se ha fatto secondo o come è andato lui almeno a me me lo dicono poi a lui non so certo ma a me i tecnici non mi non mi dicono come è andata Alba anche perché quasi sempre quando quando partiamo tutti quanti assieme finiamo prima noi le gare e spesso capita che loro partono dopo di noi quindi sono ancora in gara però appena è possibile come in qualsiasi gara o mi fermo al traguardo aspettare che arriva oppure mi sposto per cercare di trovarla su qualche salita quando gli manca poco ad arrivare al traguardo e vedere come sta andando in diretta ecco c'è ancora una domanda è di Michele Grossi vi chiede se conta di più la bici o la corsa d'estate per l'allenamento diciamo ideale per l'inverno ma penso che siano tutte e due alternative molto valide diciamo che in estate secondo me è anche importante fare quello che ti piace fare io ad esempio e anche Michele alla fine pedaliamo tanto rispetto a quello che corriamo io preferisco la bici da corsa lui no però diciamo che noi pedaliamo decisamente di più rispetto a correre però alla fine non è detto che se corri non puoi andare forte con gli sci perché ci sono tantissimi altri nostri colleghi che corrono decisamente di più di quello che pedalano quindi penso sia una cosa soggettiva noi gran parte dell'allenamento lo facciamo comunque in bici l'estate beh Katia ti ridò la linea in realtà ci sono tanti saluti tanti complimenti per tutti e due anzi direi per tutti e tre ovviamente a questo punto ti ridò la linea in attesa di altre domande che invito i nostri spettatori a fare certo grazie Nicolo Stefano quanto conta motivare questi atleti questi campioni durante una gara in cui veramente fanno diciamo fanno una partita pazzesca quanto conta la motivazione? beh la testa nello scialpinismo tutti gli sport ma specialmente poi nello scialpinismo che è uno sport molto duro conta tantissimo perché se uno il motore ce l'ha perché se è arrivato in nazionale ce l'ha la preparazione l'ha fatta tutto il resto poi la testa quindi la testa è importante questi ragazzi sono ragazzi molto maturi e riescono a automotivarsi fortunatamente anche perché noi tecnici quando andiamo in trasferta abbiamo sempre circa 20-25 ragazzi e siamo sempre molto impegnati a preparare gli sci andare ai briefing controllare il percorso quindi risulta difficile per noi prenderli uno a uno e aiutarli con questo motivo ma sono ragazzi molto maturi molto preparati quindi da soli riescono a automotivarsi a autocaricarsi se ovviamente hanno fatto le cose fatte bene prima quindi l'allenamento è tutto quello che ci gira attorno avete in squadra l'ausilio di una figura di un psicologo o di un operatore no abbiamo una fisioterapista e non ancora il mental coach che magari per certi soggetti potrebbe essere anche utile che vi dite ragazzi servirebbe? ma magari per qualche soggetto no scherzi a parte io personalmente non ritengo di avere bisogno di un mental coach poi magari non sono ancora alla fase di ammettere di avere bisogno di un mental coach ma per il momento sto bene così c'è la curiosità di sapere come avete approcciato allo sport dello scialpinismo insomma quando eravate piccoli a che età e come perché cosa vi ha affascinato ecco all'inizio dello scialpinismo ma per me è stata una una scelta un po' imitando mio papà che quando avevo più o meno dieci anni era nel clou delle sue gare e quindi non è che volessi fare gare volevo andare a vederlo e piano piano mi sono emozionato a questo sport all'inizio logicamente non avevo voglia di far fatica mi piaceva andare a divertirmi andare per girare un po' le montagne e fare qualche bella sciata e poi pian pianino con l'età che avanzava mi sono un po' più dedicato mi sono deciso ad allenarmi seriamente e poi ho visto che tutto sommato mi rendeva avevo ottenuto qualche bel risultato e allora ho deciso di continuare su questa strada fino a quando sono entrato nel centro sportivo esercito che mi ha permesso di trasformare questa mia passione che era una passione fino ad allora nel mio lavoro e quindi questo è stato ancora un vantaggio per potermi dedicare a tempo pieno per te Alba io invece non ho una storia diciamo di famiglia così lunga nello scialpinismo sono io diciamo la prima della mia famiglia che ho iniziato a fare scialpinismo e poi pian piano mi sono portata dietro anche tutti gli altri io all'inizio facevo sci da discesa normalmente facevo gare facevo agonismo ho sempre fatto quello fin da bambina poi diciamo col crescere ho iniziato a fare discesa all'inverno l'estate però invece mi piaceva correre facevo tante gare di corso ogni anno ne facevo sempre di più e alla fine queste gare di corso hanno iniziato ad andare abbastanza bene sempre meglio e finché un anno era un po' stufa della discesa mi hanno detto beh provo a fare scialpinismo tanto scendere sai scendere a correre te la cavi quindi non può uscire niente di male e così è stato ho provato dopo neanche un mese mi sono buttata a fare le prime gare e poi non ho più smesso ho continuato sempre di più sempre di più è diventata la mia grande passione il mio sport ho continuato a farlo mi riusciva bene mi riusciva magari più facile rispetto a fare discesa mi sono trovata in un ambiente dove mi piaceva mi piaceva lo sport ho continuato a farlo finché anche io sono riuscito ad ottenere grandi risultati e soprattutto poi sono riuscita a fare della mia passione e il mio lavoro entrando a far parte dell'esercito grazie a te Katia Michele tuo padre appunto Graziano Bostacci che assieme ad Ivan Murada hanno fatto veramente la storia dell'escalpinismo nel mondo in Italia ma nel mondo ti segue presumo ancora che segue ancora da grande ti dà dei consigli anche? Sicuramente il papà in quella fase dove lui pian pianino ha smesso di fare gare a piano a livello ad alto livello perché di gare ne fa ancora tuttora mi ha sempre aiutato e consigliato un po' più che altro negli allenamenti un po' magari come interpretare la gara e anche adesso ci confrontiamo ormai io ho scelto la mia tecnica di allenamento il mio metodo però quando ho qualche piccolo dubbio o quando non mi sento sicuro mi confronto con lui e parliamo parliamo spesso e mi dà una gran mano e soprattutto con la scusa di venire a vedermi tante volte fa anche lui la gara e passiamo anche dei weekend assieme che è sempre bello passare dei weekend o con il papà soprattutto mentre stai tra virgolette lavorando in giro per gare mi chiede chi segue la stalla quando tutti e due siete assenti da per gare c'è un anno? ma la stalla è nata più come uno scherzo perché da quando sono entrato nel centro sportivo esercito in estate avevo più tempo libero non dovevo lavorare in falegnameria con il papà questa passione degli animali ce l'ho avuta fin da piccolo e allora piano piano ho iniziato ad acquistare qualche animale prima avevo una stalla vecchia poi piano piano mi sono un po' ingrandito mi sono un po' ingrandito devo ammettere che la cosa mi sta sfuggendo un pochino di mano perché i numeri sono aumentati i terreni da lavorare ma che lavora sono da solo ecco dovrei un po' pensare ad assumere qualcuno però c'è da dire che il nonno non era un grande appassionato di animali perché non ne ha mai avuti però si è praticamente è stato obbligato ad appassionarsi e adesso mi aiuta lui in stalla per i lavori diciamo quotidiani per accudire gli animali poi il fieno e tutto quanto mi arrangio però quando non ci sono e anche quando ci sono e sono abbastanza stanco lui in stalla quindi dietro le quinte è ancora lui che lavora io metto la faccia ecco e ci dà una mano anche Alba come abbiamo già potuto avuto modo di dire prima Alba come ti trovi ad Albusagia la mecca dello sciatrinismo in Italia si respira appunto storia ma sciatrinismo e corso a montagna a 360 gradi sicuramente è un posto diciamo decisamente diverso rispetto a casa mia per quello che riguarda il territorio le montagne la quota e tutto il resto sicuramente c'è una cosa diversa che è sicuramente positiva che è quanto è sentito lo sciatrinismo qui qui c'è veramente la storia dello sciatrinismo e comunque è uno sport che non dico che siamo come il calcio qui ad Albusagia però alla fine lo sciatrinismo è veramente sentito da tutti quanti questa è una cosa veramente positiva è una cosa che ti dà anche tanta motivazione e comunque avere tante persone che ti seguono sicuramente è sempre bello questa diciamo è la differenza più grande e alla fine è una storia che magari va avanti prima appunto con suo papà e adesso con lui o comunque ci sono tanti atleti di sciatrinismo ci sono anche tanti ragazzini che iniziano a fare sciatrinismo e quindi questo è bello perché comunque c'è lo sciatrinismo diciamo di noi grandi però si vede anche il seguito quindi è una cosa sicuramente positiva mentre da me è più difficile anche a livello di sci club sono diciamo più indietro anche logisticamente magari più scomodo per disposizioni delle vallate proprio però sicuramente la cosa più positiva di Albusagia penso sia questo per lo sciatrinismo per non parlare vabbè di cima ameriggio esatto sì anche il sciatrinismo della domenica sicuramente è un grande seguito tra i giovani ricordiamo anche Rocco Baldini e Silvia Berra che hanno fatto ora Argento e recenti yoga ma domanda Stefano presuno tu abbia conosciuto Graziano Boscacci quando era atleta ci sono delle similitudini tra Michele e papà Graziano? il sistema di allenamento sicuramente quindi testa bassa che Cassiano era uno che caricava e lo fa tuttora e Michi ha seguito sicuramente la metodologia di allenamento che non è cioè nessuno dice che è giusto o sbagliata ognuno fa quello che diciamo si sente e è in grado di fare perché si parla tanto tante volte ma quell'atleta lì fa x metri di dislivello quell'altro ne fa ognuno di noi è diverso quindi ha bisogno innanzitutto prima di sentirsi in pace con se stessi sicuro di quello che fa e poi si vede che quel carico quell'importante carico fa bene a certe persone non a tutte ovviamente ad alcune invece fa bene caricare un po' meno quindi anche tante volte che si dice bisogna caricare di più caricare di meno sono cavolate ognuno fa quello che gli piace perché questo sport è anche bello perché non lo fai al chiuso quindi lo fai all'aperto in un ambiente che è fantastico quello dei boschi della natura della neve fresca piuttosto che della neve crostosa c'è troppo di tutto però è anche bello per quello e uno fa quello che gli piace e diciamo che dal punto di vista psicologico sia a posto e poi da lì il gioco è fatto ecco ho una domanda io per voi volevo curiosità chiedervi come vi misurate d'estate durante l'allenamento cioè se usate non so il cardiofrequenzimetro altre tecniche o semplicemente andate a sensazione io mi attacco a Michele fino a che non mi stacco vuol dire che sto bene no scherzo comunque usiamo il cardio e niente comunque anche durante la stagione estiva non è che non gareggiamo alla fine misurare la forma è difficile farlo senza avere un metro di paragone soprattutto non essendo in gara alla fine puoi fare mille test però bisogna avere anche la motivazione io personalmente la motivazione la trovo solamente con un numero attaccato per quanto riguarda veramente vedere lo stato di forma quindi anche durante la stagione estiva facciamo qualche gara sia di corsa o anche in bici per vedere appunto se si sta lavorando bene se si sta lavorando male o più che altro se si sta lavorando poco se si sta facendo troppo sono curioso di sentire anche Stefano cosa pensa relativamente a questa domanda beh il cardiofrequenzio è importantissimo per capire non magari nella fase estiva ma quando diciamo si finalizza la preparazione si fanno i carichi di lavoro specialmente sui veloci è importantissimo basarsi su qualcosa che ti dice ok devi dare ancora ok no devi fermarti e anche per capire i tempi di recupero è sicuramente fondamentale ok grazie a te Katia una domanda nuova di intervista doppia pregi e difetti sportivi di Michele ed Alba partiamo da Michele eh Michi il difetto del Michele pregio allora beh pregio che in salita va come una bomba un po' meno in discesa ma un po' meno a livelli altissimi non è che cioè è uno che non sta non sta in piedi eh diciamo che adesso essendo essendo nelle gare individual dove magari le prime cinque posizioni si risolvono in 20 secondi perdere un qualcosina in discesa rispetto a quelli più forti è un pochino un handicap non è che va piano però dopo per la discesa non tutti siamo predisposti eh non siamo predisposti per la salita non è facile migliorare la discesa eh o ce l'hai o non ce l'hai non è che uno dall'oggi al domani puoi si prepararla allenandoti finché vuoi però il pelo che hanno certi più che il pelo magari il vedere le cose le traiettorie l'anticipare perché non è che sei su un percorso con le porte direzionali e passi lì ok lì è proprio il guardare avanti il scegliere l'itinerario giusto per trovare la neve migliore che ti frena in certi frangenti che ti fa accelerare in certi altri quindi non è facile di Alba guarda Alba Alba va bene senza in salita che in discesa quindi ha tanti presi difetti che devi stargli un po' lontano quando è arrabbiata perché altrimenti tappiti Michele c'è la migliore in salita e c'è il migliore in discesa al mondo secondo te diciamo che non c'è una persona sola ci sono qualche atleta che va veramente forte in discesa posso dire Robert Matteo Eidalin William Bombardion ci sono 5 o 6 persone veramente forti in discesa e ce ne sono altre tante veramente forti in salita proprio trovare una persona che va forte la più forte non te la posso dire anche perché poi c'è magari qualcuno che va più forte parlo di salita su una pista c'è qualcuno che va più forte in traccia e ognuno si deve un po' anche adattare alle caratteristiche e cercare di finalizzare il percorso e rendere il più possibile su quel tracciato ecco quindi ci sono ci sono alcune persone veramente forti e alcune persone veramente forti in salita al femminile sicuramente avere un atleta più forte è difficile da identificare anche perché se no non staremo magari qui a fare le gare se sappiamo già chi è il più forte sempre e sulla carta sicuramente diciamo nel panorama femminile in salita ci sono delle potenze che è difficile raggiungere che sono Axel Mollaret e Victoria Kreuzzer che proprio in salita vanno veramente forte mentre praticano un po' di più in discesa diciamo compensano quello che gli manca in discesa solo in salita mentre ci sono atlete che sono complete che vanno forte da tutte e due le parti sia in salita che in discesa e atlete che vanno bene anche in discesa che mi reputo una discreta discesista magari non la migliore sicuramente anche Marianne Fatton la Svizzera va sicuramente forte in discesa anche più di me Lorna Bonnella anche una fortissima discesista e quindi è difficile comunque dipende tanto anche dalla neve dai percorsi ogni gara la sua storia quindi proprio darti un nome del più forte sia in salita che in discesa si fa fatica senti prendo io la linea c'è grande curiosità sui vostri allenamenti ovviamente ci sono anche domande tanto tecniche tanto specifiche ne riassumerei una sola per Marco e Nicola che chiedono se riuscite a dare un metro di misura di quanto vi allenate d'estate per poi andare bene d'inverno e quanti chilometri quanti metri fate insomma come le misurate sugli sci per essere sempre performanti e competitivi ecco cerchiamo di dare non dico dei numeri ma delle idee ecco alla fine questo è un campo abbastanza minato perché anche per dire faccio 350.000 metri di dislivello in una stagione invernale magari ci capitano inverni che c'è poca neve all'inizio stagione quindi si va tanto in pista il che vuol dire che il dislivello positivo di un allenamento singolo è nettamente superiore che farlo fuori pista a parità di tempo quindi sono tanti valori che ci sono in gioco che però vanno un attimino equilibrati tra loro le ore di tempo che ci si allena i metri di dislivello i chilometri percorsi sono un'equazione molto complicata che si deve cercare di far quadrare ti posso dire che ci sono state stagioni in cui ho fatto più di mille ore di allenamento tra estate e inverno e ci sono stagioni che magari ne ho fatte anche solo 800 quindi 200 ore sono tante di differenza tra un anno con l'altro e il risultato è praticamente identico quindi non è tanto la quantità o il volume ma è proprio le sensazioni che hai durante i vari allenamenti e anche durante la stagione stessa quindi sono numeri che vanno guardati ma non bisogna diventare maniacali nel guardarli ti posso dare qualche dato ci sono la stagione scorsa non questa perché questa è stata interrotta con due mesi d'anticipo parlo della stagione 2019 ho fatto 320 mila metri di dislivello con gli sci quella prima nel 2018 ne ho fatti meno di 300 mila quindi sono tanti tanti dati che lasciano tempo che trovano in poche parole ecco è strano da dire ma è così non c'è una formula come nel ciclismo che non si sbarga penso che sicuramente comunque hai risposto alle curiosità di Marco Nicolò ridò la linea a Katia grazie esco momentaneamente dal lato pertamente sportivo e approfitto Alba per chiederti leggo che è una paura massa degli insetti come te la cavi vivendo praticamente in campagna sicuramente ho dei grossi problemi molto spesso anche con le chimici specialmente l'estate quest'inverno non se ne sono mai andate completamente la cosa non mi va bene non ho ancora trovato bene la soluzione adesso sono un po' contenta perché il gatto qualcuna se la mangia almeno la tira via e se no comunque chiamo in soccorso Michele a pulire tutte le finestre dalle chimici che entrano in casa chiedo un'altra domanda così un po' di carattere famiglia Boscacci del Silvestro chi cucina in casa? ma cucina lei perché alla sera io rimango sempre un po' di più in stalla e quindi con la scusa mi fermo un attimo lì magari anche solo seduto è per quel che ne sa lei e così lei inizia a preparare io faccio la doccia e la trovo pronta no scherzi a parte ci aiutiamo tanto però non sono un gran cuoco ecco mettiamola così e quindi cucina lei e ci d'aiuto Alba no lui non so non so come si fa in 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 qualsiasi cosa che sa fare però è il non ho voglia e alla fine anche a pranzo anche se quando torniamo a pranzo lui non è che è già tornato dalla stalla o che ci deve subito andare però comunque cucina cucina mica ho comprato bimbi che così era contenta e adesso si può sfogare la usa ecco beh che non è un appoggio non da poco il bimbi avete un po' gli stessi gusti il vostro piatto preferito diamo qualche curiosità ma piatto preferito non lo so alla fine penso che più o meno abbiamo gli stessi gusti per quanto tutti e due non mangiamo il pesce e quindi è un alimento che proprio in questa casa non esiste piatto preferito penso la pizza ma non sicuramente quella che cucino io devo ancora migliorare per me scusa sì Michele no vai 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 no no dimmi pensavo che era per tutti e due la domanda ecco io di piatti assolutamente vai vai no non è che ne ho ne ho tanti però non so ma è un piatto di lasagne poi in estate no ma in inverno volentieri Stefano che percentuale di grasso hanno questi super atleti pochissimi sono magrissimi conosci i dati? no nello specifico non conosco i dati però ovviamente il grasso poco magari loro stessi lo fanno che percentuale? sì penso che ce l'abbiano perché quando fanno i test li vendeto Michele tu lo conosci tu hai penso occhio al 5% giudici ma diciamo che è una cosa che non mi piace tanto guardare perché poi dopo mi sento grasso però non lo so è di preciso non è che sto lì tanto a fissarmi un po' magari anche per paura del dato che ne esce però sì penso dal 5% all'8% o 9% quando proprio magari si è in estate un po' più allo sfascio che non si guarda più così tanto l'aspetto alimentare però non credo più alto di questo non ho dubito dubito fortemente Alba una signora non si chiede nel peso nell'età però ci vediamo a una splendida forma di sicuro non hai problemi assolutamente di questo tipo anzi segui una dieta tra virgolette sportiva particolare oppure sei golosa e ti abbuffi no sicuramente non non seguo una dieta però prestiamo comunque attenzione tutti e due a quello che mangiamo perché alla fine per andare forte è anche importante mangiare bene sicuramente non seguiamo una dieta a me personalmente piacciono i dolci quindi faccio anche fatica a trattenermi se dovessi proprio togliere il cioccolato non so dalla mia alimentazione penso sia importante mangiare bene non esagerare mangiare un po' di tutto avere una dieta equilibrata più che altro alla fine l'importante è quello sicuramente non ci sfondiamo di pizza e lasagne tutti i giorni però qualche strappo alla regola ogni tanto ci sta sicuramente diciamo privilegiamo piatti semplici come una pasta in bianco o una bistecca di pollo non solo pollo però alla fine mangiare bene non vuol dire proprio seguire sempre una dieta alla fine io penso che per me seguire una dieta sarebbe anche una cosa troppo impegnativa a livello emotivo e sarebbe uno sforzo magari anche troppo grande che per il momento non mi va di affrontare sto bene così e penso di continuare a fare così senza seguire una dieta precisa siamo quasi in conclusione veniamo alla domanda più della puntata le nocce sono confermate? questa qui è una bella domanda ci pensiamo più o meno tutti i giorni alla fine non è una decisione facile da prendere sicuramente non abbiamo scelto l'anno migliore per un matrimonio visto le complicanze del periodo come data abbiamo il 6 giugno che quindi è lontana però non troppo lontana e quindi anche noi diciamo siamo ancora in balia degli eventi speriamo che tutto passi in fretta di riuscire a sposarci quest'anno però sicuramente sappiamo che sarà dura e quindi stiamo valutando altre possibilità ma per ora di certo abbiamo poco sarà la stessa data di un'altra grande coppia dello sport italiano Greta Laurent e Federico Pellebrino sì di fatti ci siamo anche sentite in questi giorni che siamo tutti quanti che alla fine non sappiamo come comportarci alla fine penso che nessuno sia diciamo uno specialista nell'organizzare matrimoni visto che se tutto va bene si fa solo una volta e trovarsi poi in questa condizione che non sei in grado di capire se sarai se sarà possibile fare proprio un matrimonio anche solo religioso se sarà possibile invitare delle persone cosa sarà possibile e no entro il 6 di giugno è difficile per tutti comunque alla fine il matrimonio diciamo oltre alla fatto sentimentale è comunque un evento da organizzare quindi non è proprio una gestione facile e questo momento qua ti mette in gran difficoltà deve essere anche la vostra festa l'ultima domanda a Michele e vorrei anche la conferma da parte di Stefano sull'ufficialità di questa notizia come e in quale occasione ha chiesto ad Alba di sposarsi ma l'ho chiesto come vuoi darmi la versione ufficiale o quella quella il giorno di Natale la verità come si fa di solito non è andata così Stefano mi pare che chiedi anche te quel giorno a casa mia Natale e avrai visto tutto no sì mi ricordo non era Natale però mi ricordo com'è andata senza entrare troppo nei particolari ad una gara con i suoi amici sciatrinisti in linea di massima sì diciamo che era fine stagione era finita la Coppa del Mondo eravamo un attimino in festa e basta niente però non è che non è che mi sono pentito cosa erano poi erano assolutamente no a parte tutto a parte gli scherzi ah che emozione comunque no al di là forse del momento festoso comunque insomma una bella emozione beh dai diciamo che più che emozionante è stato sicuramente divertente magari non sarà stata la proposta più romantica della storia ma penso che ci siamo divertiti tanto e anche non solo noi ma anche tutti gli altri quindi sicuramente è un ricordo felice ma soprattutto divertente più che emozionante direi un ricordo per tutti grazie di cuore in bocca al lupo per la data speriamo che la situazione si sblocchi un po' sotto tutti i punti di vista speriamo si possiate fare veramente una gran bella festa che i vostri amici che ve lo meritate grazie Michele grazie Ado grazie Stefano grazie a voi riprendo quindi la linea vi ringrazio anche io è stato davvero un piacere avervi con noi come al solito lunedì abbiamo parlato di sci alpinismo mercoledì il biathlon abbiamo Lucas Hofer con Pietro Dutto quindi ovviamente appuntamento a mercoledì sempre alla stessa ora ore 18 ovviamente vi ringrazio anche io ringrazio tutti i nostri ospiti ringrazio anche Katia per aver condotto questa piacevole diretta e alla prossima ciao ciao